Ciao a tutti come vedete qui è alto qui è basso e in mezzo c'è un casino quindi per sistemare sto casino che fa il mio amico Zampa ho deciso di fare un muretto siccome i muretti costano e voglio spendere poco e fare in fretta ho deciso di usare delle bottigliette un po di cemento basta nada mas niente altro e facciamo un muro un po po strano seguitelo il video e vedete come va ciao 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 ciao